Vi ricordo l'incontro che Telecattolica riprenderà domani, le immagini dei perditi dell'appuntamento sportivo, ovviamente il Cattolica, il Pignati Casa e il Conto di Foligno, poi saremo a Riccione, per Riccione Tolentino, Bellavia, per Bellavia, Sevigni, Questo è un VHS dei primi anni Ottanta, della storica leonessa Radio Telecattolica, con le sigle che venivano fatte con il famoso computer Commodore 64, eccola qua. Anteprima sport, fatta con il Commodore 64, programmato dall'allora Carlo Serafini, quello che tirava avanti tecnicamente Telecattolica, Provence di Rimini, Tanti amici, a cura di Maurizio Fabri, 35, passa anni, Realizzazione sportiva, Maria Rattari, Fiorista, Maria Bazzoli, Antonio Dele Santi, Gianfranco De Ria, Cameraman Luciano Balvini, Pietro Cisoroni, Luca Lisotti, Massimo Serafini, nome famosa cattolica, Tecnico audio, Aldo Calvi, Tecnico audio, il milanese, Silvio Silvi, è sottoscritto, Tecnico computer, Gianluca Conti, oh, me lo ricordo ancora, Montalcio del VM Geruscalea, io lo chiamavo Lattario, coordinatore Tecnico Guido Raffaelli, l'amica quello della Poi d'olto, mi ricordo, produttore esecutivo, Umberto Pierpaoli, eh, il suo moon black, il mio fiume, regia, Carlo Serafini, ciao Carlo, eh, il mio fiume è un po' concià, sigla fatta, allora, con il comodo 64, primi anni 80, quanti anni che sono passati, io è buono, ma almeno 35, 35 anni qua sta roba, e la gente, come vola il tempo, saluti a tutti, e la gente, come vola il tempo, come vola il tempo,